Non devi andare sulla Luna per trovare le migliori statistiche sportive. Su Planetwin365.news trovi statistiche, dati e analisi approfondite e fornite dai migliori esperti. Scopri il futuro dello sport su Planetwin365.news. Scopri il futuro di ogni episodio con corrispondenti CBS News e produttori in post-mortem. Un'esercizio di deep dive. Scopri il futuro di 48 Hours, dovevi ottenere i nostri podcast. La storia di un colpo che ha davvero dell'incredibile. A Roma sono state svuotate quasi 200 cassette di sicurezza nella banca che si trova all'interno, niente meno che del Palazzo di Giustizia. Fino a questa mattina credevano che fosse la banca più sicura d'Italia, con la camera blindata nei sotterranei di uno dei luoghi più sorvegliati di Roma. E invece con un colpo che ha dell'incredibile, una banda di cassettari, una specialità della mala romana, ha scassinato e svaliggiato 148 cassette di sicurezza nella filiale della Banca di Roma del Palazzo di Giustizia di Piazzale Closio. Non capita tutti i giorni un furto così particolare all'interno della città giudiziaria, un'istituzione importante, sostanzialmente un luogo che sembrava inespugnabile, una banca all'interno della città giudiziaria presidiata dalle forze dell'ordine. A me mi ci viene da ridere. Il modo in cui sto conducendo questo podcast può sembrare veramente antiprofessionale, perché comunque dico quello che penso, esco dall'oggettività dei fatti, per carità, però il discorso è proprio relativo alla prospettiva. La prospettiva di chi si racconta a un amico, in un bar magari, perché è da lì che nasce tutto, ed è lì che finisce. Non stiamo parlando di persone che vengono da chissà quali ambienti, sono persone che vengono dalla strada, che parlano quel gergo, convincono attraverso quei modi. Io dico, mentre accade tutto quello che sta accadendo, è entrare con una lista, roba selezionata, nel gruppo, nella batteria, personaggi come Mimmo il Mostro, definito così, dalla bravura nel suo lavoro, non perché fosse brutto come la fame, forse un mostro, no, neanche perché fosse magari spietato, semplicemente perché a Roma c'è una cultura tra i cosiddetti cassettari, gente specializzata in quella tipologia di furto, e ognuno aveva il suo stile nell'aprire le cassette. E Mimmo il Mostro era il migliore, evidentemente, che solo i migliori potevano far parte di questo colpo qua, il colpo dei cavò. Nella banca più importante, più protetta, più tutto. Cioè, se dobbiamo andare adesso a trovare gli aggettivi per descrivere la banca centrale, che vi devo dire? Non ci sono aggettivi. Ci sono domande. Tipo, cosa stavano cercando? Perché? Avevano tutto il tempo, in quanto avevano corrotto tutti. Perché non aprire tutte le cassette? No, solo quelle che servivano. Di cosa stiamo parlando? Chi è di cocaina? Gioielli? Almeno 18 miliardi di lire? Ma non solo. Perché il valore commerciale di quello che c'era in determinate cassette aperte a macchia di ghepardo. Quindi, mirate questa, questa, quest'altra. E il valore commerciale di quello che c'era non vale niente in confronto a quello che potevano contenere certe cassette. Un'azione spettacolare nella banca più sorvegliata d'Italia, senza sparare un colpo, senza scazzi. Come fosse a casa sua. Magistrati, avvocati, gente impegnata in processi grossi che avevano depositato anche documenti degli assistiti. qualità di vittime, livello proprio 100 e lode. Nessuno ha mai fatto un lavoro così, se si tratta di valore potenziale. Perché con questo furto porti a casa il potere, quello vero. Puoi ricattare, puoi fare qualunque cosa, perché comunque sono andati a colpo sicuro. Quindi, evidentemente, c'erano dei motivi specifici che hanno portato a progettare questa rapina. Cioè, se un magistrato, se un avvocato aveva del materiale troppo importante da lasciarlo in giro, lo andava a depositare lì, perché lì era impossibile che qualcuno entrava, rubava, faceva come cazzo gli pareva. Ed è proprio lì che sono andati. E hanno preso, hanno rubato, hanno fatto come cazzo gli pareva. Più obiettivi, più motivi che sono quelli che hanno portato a progettare una rapina così. Io immagino, mentre la ragionavano, uno si guarda e dice ma che cazzo siamo a fare, che cazzo siamo a dire. Invece no. Invece no. Dall'idea si è passati poi all'atto, alla storia. E attenzione, in cambio di cosa? Una condanna per rapina? Neanche rapina a mano armata o roba del genere. Quanto puoi beccare per una condanna, di condanna per un furto così? Capite il discorso? Cioè tu neanche dici ho fatto il furto del secolo e rischio vent'anni. No, no, ne rischi pochi perché non è neanche rapina a mano armata. C'è un limite. Sarà dai due ai sette anni per dire. E che cosa sono? Tre, quattro, cinque anni di detenzione tra l'uscita prima, buona condotta. Che cosa sono rispetto al potere che puoi prendere da queste cose e che cosa sono tre anni di galera per Massimo Carminati? Nulla, nulla, veramente niente. E poi, chi ha il coraggio di condannare Carminati? Difatti, nessuno lo riconosce. Non vogliono neanche firmare i verbali diretti perché tutti hanno paura di lui. Tutti hanno paura che anche il solo dire potrebbe essere lui. Guarda, fai finta che non mi guardi, guarda un po' il dito, ci hanno paura. Durante questa indagine lui è nel pieno di tutti i processi che ho citato nell'episodio precedente, quelli da cui è stato assolto. Cioè, mentre lui è imputato per fatti che potrebbero metterlo in galera per tutta la vita e oltre, lui cosa fa? Commette il furto del secolo. E sta qui la sua tenacia, sta qui in queste gesta di pura personalità che lo rendono un personaggio inimitabile. Tutto così alla luce del sole, nessuno sa niente, ma tutti sanno tutto. Una persona normale generalmente viene condannata anche quando innocente. Basta che sia accusato e se non ti difendi bene una condanna la becchi. Questa è la normalità. Vuoi o non vuoi? Lui no. e anche qui si appella al Parlamento e ottiene l'indulto. L'indulto consiste in un provvedimento generale che causa l'estinzione della pena. Un provvedimento per il quale il Parlamento condona o commuta parte della pena per i reati commessi. Mi spiegate perché il Parlamento dovrebbe commutare la pena di Massimo Carminati? Il mio può essere anche frainteso come discorso. Che stai a fare? Stai elogiando un criminale? Stai dando del fenomeno a una persona così? Ma come potrei non essere affascinato da questa storia? Cioè se l'avessi vissuta sulla mia pelle no. Se la guardo a fatti concreti neanche rabbrividisco. Ma facendo finta che questa sia una narrazione uno storytelling un romanzo. Perché neanche nella realtà di fantasia esiste un personaggio così. Questo neanche a Gomorra l'hanno inventato un personaggio così neanche altro che romanzo criminale romanzo criminale è cosa? La verità qui è peggio del film. È impossibile da inventare. Questa storia io mentre la racconto mi domando se è veramente sto dicendo qualcosa che è accaduto o se sto sognando perché questo è un pazzo ma un pazzo lucido un pazzo con una logica. Questo podcast come tutti i lavori che faccio sul tema nascono come propaganda contro la criminalità. Io credo che il racconto della verità sia sempre un'arma da usare per raccontare ai giovani cosa accade e quello che fa Carminati è un qualunque criminale è una vita di merda cioè lui la galera comunque se l'è fatta anche il 41 bis non le pene che meriterebbe per carità ma un giorno da 41 bis io non lo auguro a nessuno il discorso è che parliamo di uno che avrebbe dovuto avere 5 ergastoli e fino ad adesso a questo punto della storia sarà fatto qualche annetto boh neanche ci sguazza nelle patrie galere perché lui non ha vizi non va con le puttane non tira cocaina non beve non fuma reati a parte è una persona modello il suo medico secondo me è fiero di lui non mangia neanche al ristorante c'ha solo sto vizio che deve rapinare deve saccheggiare deve uccidere per sé stesso per il brivido di farlo perché non può farne a meno la sua storia è talmente in equilibrio che io non ce lo vedo neanche che perde la testa per il delirio di onnipotenza o cose del genere io non so cosa dire sono a metà tra l'attratto visceralmente da questa vicenda il disgustato da un uomo che ha letteralmente messo tutti sotto solo ed esclusivamente per il proprio ego perché dopo questo fatto che chiude definitivamente la sua seconda vita ci aggiungi l'indulto libertà 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 e adesso adesso basta così soldi appalate idealismo rispettato informazioni per sedare una guerra no? perché si dice c'è il potenziale per fare una guerra no 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 carminati ha il potenziale per fermare una guerra che è ancora peggio eppure non gli basta tutti credono che sei il re di Roma quindi anche a livello proprio dici voglio essere ricordato nell'ambiente più di così libanese direbbe più in alto del re di Roma giusto a morte e niente ragazzi ci siamo arrivati a questo punto non resta che entrare anche nella storia contemporanea visto che non si è fatto mancare niente carminati perché non addentrarsi in un mondo un po' più pulito e questa parola mi fa ridere perché forse l'ambiente criminale per lui è stato il più lindo in cui ha messo piede che poi è l'ambiente della vita di tutti i giorni a questo punto in questo momento della sua vita carminati mette la testa a posto si rende conto che il suo nome è più importante di quello del presidente del consiglio e allora smette di fare il rapinatore smette di fare il sicario e inizia un nuovo percorso un percorso tra l'edilizia nel sociale un percorso politico tutto ovviamente nell'ombra nell'altra faccia di quel mondo di mezzo insomma siamo nel 2011 come ho già detto più volte e massimo carminati uomo libero dà il via a quella che passerà la storia come l'indagine di mafia capitale di mafia di mafia